Musica Benvenuti ad una nuova puntata di Viaggio in Molise, mi trovo all'interno del Teatro Savoia qui a Campobasso, sta per iniziare la commedia in vernacolo Campobassano e Asciutto Pazzo o Parrocchiane. Questa sera si esibirà la nuova compagnia teatrale terza classe sul palco diretta da Patrizia Civerra per raccogliere dei fondi che saranno interamente devoluti alla Debra Onlus Italia. La Debra Onlus si occupa di solidarietà ed in particolare solidarietà per i bambini affetti dall'epidermolisi bollosa, una malattia genetica rara, devastante, per la quale si sta cercando una cura, però in particolare si cercano delle cure, dei nuovi metodi sperimentali e i fondi raccolti questa sera serviranno appunto a questo, a curare questi bambini con delle attrezzature molto costose. Andiamo a goderci questo spettacolo questa sera, divertiamoci e ricordiamo che chi va davvero in scena, chi è protagonista di questa serata è la solidarietà e la generosità. Sono in compagnia del presidente della Debra Italia Onlus, Claudio Notarantonio, qui a Campobasso per promuovere la solidarietà, un concetto di solidarietà questa sera molto importante che riguarda i bambini affetti da una patologia rara, una patologia genetica e comunque devastante. Sì, la patologia è l'epidermolisi bollosa, è una delle 7.000 malattie rare ed è una malattia che colpisce l'epidermide, colpisce le mucose interne e ha diverse conseguenze gravi, diciamo, di tipo degenerativo sul fisico dei ragazzi che hanno questa patologia. Noi come associazione siamo un'associazione fondata dai genitori e cerchiamo, come dire, di resistere ai danni che questa malattia fa sui nostri figli cercando di collaborare strettamente con i centri di riferimento, quindi con i medici che sono sul fronte, diciamo, che combattono la malattia in prima persona. Cerchiamo di stare loro vicino e finanziare delle parti di progetto che servano a implementare, diciamo, gli strumenti a loro disposizione e la formazione a loro disposizione. Credo che ci stiamo riuscendo perché sia il centro di Roma, il Bambino Gesù, sia il centro di Milano, sia altri centri a livello nazionale stanno collaborando con noi in maniera attiva e sono in grado di prendere in carico i pazienti in maniera migliore rispetto ai tempi passati, agli anni passati. Quindi si sta cercando di perfezionare questo discorso. Questa sera qui a Campobasso al Teatro Savoia c'è stata una commedia divertente ma insieme al divertimento si è fatto anche del bene. Tutto il ricavato dei biglietti venduti e dei calendari che sono stati proposti qui questa sera sarà devoluto in beneficenza per un progetto veramente fondamentale per il miglioramento delle condizioni di vita di questi bambini. Sì, si tratta di mettere a disposizione del Bambino Gesù, di continuare a mettere a disposizione del Bambino Gesù un macchinario importante e oneroso perché il suo costo è 220 mila euro. Noi in questo momento siamo in grado di noleggiare questo strumento e di affrontare vari interventi. Abbiamo iniziato già da gennaio e i medici hanno potuto sostenere diversi interventi con questo macchinario. Questo macchinario a cosa serve? Serve a contrastare i carcinomi della pelle che nel caso del Bambino lisi bollosa sono molto aggressivi e quindi molto veloci nel loro esito e spesso purtroppo letali nel loro esito. Quindi attraverso questa macchina si cerca di contrastare questa marcia dei carcinomi e pare che i medici sono ottimisti e sembra che questo sia dando dei buoni risultati. Anziché fare chirurgia demolitiva con amputazione degli arti si riesce a mantenere la funzionalità dell'arto eliminando il problema del carcinoma. Questa sera si è potuto aiutare l'associazione attraverso l'acquisto di un biglietto. Se qualcuno volesse fare una donazione spontanea come può mettersi in contatto con voi? La maniera più semplice credo che sia attraverso il nostro sito www.debraitaliaonlus.org Questo è il nostro sito ufficiale. Sul sito ci sono tutte le maniere per collaborare e per fare donazioni nei confronti della nostra associazione. Ci sono tutta una serie di informazioni sulla malattia, su come funziona la nostra associazione, numeri utili di telefono, eccetera. Non resta che dimostrarsi ancora una volta generosi? Sì, sì. Io credo che la generosità sia espressione di un sentimento profondo, che è la solidarietà. La solidarietà non è un sentimento accessorio, ma è un valore fondante del nostro vivere insieme. E quindi è auspicabile che questo sentimento venga rafforzato e leghi ancora di più il tessuto sociale e ci leghi ancora di più tutti insieme per risolvere i problemi di chi è più debole, di chi è in difficoltà. Michele Falcione è presidente dell'Associazione Talenti ed Artisti Molisani, nonché organizzatore di questa serata a scopo benefico in favore della Debra Italia Onlus. Una serata importante, avete riempito un teatro e avete fatto divertire veramente tutti i presenti. Sì, siamo soddisfattissimi dall'uscita di questo evento a favore degli amici della Debra, che sono stati i nostri ospiti in questa due giorni interessantissima. Siamo soddisfatti anche perché Campobasso risponde davvero molto molto bene a queste iniziative benefiche e lo ha dimostrato penso appieno anche stasera riempendo questo meraviglioso teatro. Un ringraziamento particolare, credo sia doveroso, alla compagnia teatrale che insieme a noi ha organizzato questa serata e che ha in maniera eccellente ci ha fatto davvero ridere per tutta la serata e alla provincia di Campobasso nella persona del suo presidente Rosario De Matteis. Il vostro impegno è stato ripagato dall'incasso della serata che sarà devoluto in beneficenza a questa associazione? Sì, l'incasso monta intorno ai 2000 euro che verrà interamente devoluto a questa associazione. Siamo contenti anche perché il presidente Debra, con il quale ho avuto modo di parlare in questi giorni, ci diceva che in altri teatri sicuramente più importanti, ma non per una questione storica, proprio perché magari sono in città, a livello di popolazione sono maggiori di Campobasso, l'incasso qualche volta è stato anche minore di questo, quindi siamo ancora più soddisfatti. I Campobasso hanno risposto positivamente dimostrandosi ancora una volta generosi. Tu Michele sei cresciuto appunto nel mondo dell'arte e fai parte di un'associazione che veramente vanta dei nomi riconosciuti a livello nazionale. Ecco, i vostri impegni più prossimi quali sono e com'è possibile vedere le vostre manifestazioni, com'è possibile anche contattarvi? Devo dire che insomma il merito della nostra attività è esclusivamente degli artisti che fanno parte di questa associazione che volta per volta propongono anche in prima persona degli eventi. Sicuramente cercheremo di organizzare altre manifestazioni in quest'anno, ma soprattutto cercheremo di aiutare le associazioni che fanno ricerca e che comunque hanno bisogno di un sostegno. Purtroppo i tempi non sono i migliori, per cui penso che l'unica strada, l'unico modo è quello di affiancare la cultura, lo spettacolo al mondo scientifico. Arte, cultura, spettacolo e solidarietà stanno creando un connubio perfetto. Sicuramente, io lo sostengo da diverso tempo, penso che vadano a braccetto e soprattutto possono fare grandi cose. Come diceva anche Patricia Civerra che è stata la regista di questo spettacolo a fine manifestazione, ci vuole davvero poco per organizzare delle manifestazioni, degli eventi e soprattutto la collaborazione è la prima cosa. Quindi io faccio un appello anche alle altre associazioni a unirsi al fine di poter in qualche modo realizzare degli eventi per la ricerca scientifica su delle malattie che purtroppo ancora oggi mi entrono vittime e soprattutto nel caso delle epidermolisi bollosa colpisce i miei bambini. Grazie a tutti.